Avanzia ragazzi, pochane, raccomando. Se la fate, metanizzate la battuta adesso. Vai di là, vai di là, vai di là. Grande. La battuta arriva. Lunga, lunga. Bravo. Bravo, Andro. Bravo. Andro a fai vedere che non avevi bisogno della sbattuta. Sto la vede! Sto la vede! Sto la vede! Bravavi. Andro a fai vedere. Andro a fai vedere. Andro a fai vedere. Bravo. Arriva subito. Bravo, Andro. Bravissimo. Dai, 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 che ci siamo! Bravi. 3-1. Andro a fai vedere. Allora, stai messo in 2. L'abbiamo fatto 2 punti. Va bene. Per il passo in giro. Non ho problemi, Ale. E' una cerchia da 2-1. 3-1. Dai, dai dai. Allora, dai dai dai. Guarda dove sono 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 Guarda dove sono